Ciao ragazzi, sono Stabank95, rieccoci qua sul primo video del 2013 scazzando con su... No. Come vuoi? Dicevo, rieccoci qua su Prince of Persia dopo due giorni di pausa per ovvi motivi di pigrizia. Oltre che farsi roba varia. Buon 2013 a tutti e andiamo avanti. Allora, che c'è qui? La fontanella. Già è vero, qui mi avevamo pupato tutta la vita a manetta. Allora, allora, se sulla bacca di Facebook avete visto che ho scritto, che ho scaricato Wolfenstein 3D... Dobbiamo aprire la porta. Cerca un interruttore. Avendolo scaricato pirata... Sì, ma me lo... No! Aspettami! Forza! Che culo. Una pensa per i soldati. La cucina emanava ancora l'odore di cibo. Besti. Solo poche ore prima, questi tavoli erano affollati di uomini, che scherzavano allegri durante la cena. Proprio come gli uomini di mio padre, Asiraf, poiché si sentono a casa, al sicuro tra le mura del castello, senza nemici contro cui combattere. Come potevano immaginare che l'unico fosse già tradirlo? Dicevo, visto che Wolfenstein 3D è scaricato, pirata, non ha le soundtrack, cioè ha tutto tranne le soundtrack quando giochi, quando giocate. Mi scocciava... Cioè mi scoccia fare un video incompleto, o meglio a metà. Allora, visto che è su Steam, ho visto che costa sui 2€ qualcosa, e ho notato anche che... hanno aggiunto delle specie di... come si dice... di codici per ricaricare il credito Steam. Domani vado al primo GameStop che mi trovo per la via e compro questi Steam Crediti, chiamiamoli così. Così almeno lo compro e comprerò anche tanti altri giochi, quali Half-Life, ho visto l'episodio 1, 2, 3, che... Cioè, aspetta, Half-Life 2, poi c'è l'episodio 1 e l'episodio 2, che costano pochissimo. Tipo sui 9€... Cioè, è roba da non perdere, e... De... ho detto, ma... Stififichiamoci, alziamo il culo dalla sedia per un giorno per comprare... Questo tesserino. Ecco. Questo qui come si batteva, eh? Ottimo. Se mai allontaniamoci un attimino da Phara, se no dopo ce la stufano. Grande Phara. Oh, bravo, ti sei reso l'urtile, finalmente. Poi ho intenzione di finire anche gli altri giochi che abbiamo lasciato a metà. Quindi, ora... Boh, sto tentando... Cioè, mi sa che andrò un po' ino di fretta con i video. Quindi, penso, per... Non lo finiremo subitissimo. Ecco. E casca giù, marema campagnola. Se qui non ho idea di come tirarlo giù, quindi si fa così. Lasciami stare la mia puttana, stronz. Veloce, veloce. Dai. Cristoforo. Ale. Fiero, prof. Beh, c'è già un altro salvavaggio. Vabbè, intanto, vabbè, prima di andare avanti, la gamanetta. Esploriamo un attimo qui per vedere il che c'è, a parte che si può fare anche dopo. Eh, ok, prima ricuriamoci. Ok, possiamo anche andare a salvare e concludere qui la puntata. Scusate se è breve. Quindi ne faccio subito un'altra. Così almeno si va avanti. Vediamo la visione. Così almeno si leva un po' di lag. Chi ci aspetterà nella prossima puntata? Ah, si inizia già a salire nella torre qua, via, diciamo. Ok, ragazzi, per questo episodio è tutto. Scusate se è stato breve, però... Vabbè, stiamo già al 46%. Vabbè, ciao a tutti e alla prossima. Iscriviti al canale per rimanere aggiornati. E visitate anche il canale Nocciola dove stiamo facendo gameplay su Castle Crash e altri cazzeggi vari. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie.